Presidente Liberato Gentile, Boiano sconfitto ma al termine di una grande prestazione? Sì, è stata una bella prestazione da parte dei ragazzi, hanno visto la squadra in crescita, hanno giocato dal primo minuto bene all'altezza del loro avversario che è una posizione di classifica ben più elevata, da fastidio e purtroppo Tabellino resce da Venafro 1 per Boiano 0, tre punti hanno presi loro, questo è il calcio purtroppo. Lotta salvezza serrata però il Boiano attuale se la può giocare alla pari con tutti? Ma quello che ci sta incoraggiando è che il lavoro che il mister Geoffrey sta facendo, si stanno vedendo dei progressi a livello di gioco, questo è quello che ci incoraggia. Ci demoralizza il risultato di oggi perché veramente i ragazzi hanno giocato molto bene, alla pari, siamo meglio del Venafro, sarà una lotta con le nostre concorrenti, speriamo di continuare almeno a livello di gioco come stiamo facendo ultimamente perché il gioco paga. A proposito di salvezza, sabato c'è uno scontro importante a campo basso con il campo di pietra. Certo, trasferta difficile per noi perché con una diretta rivale, il morale non è al massimo visto il risultato di oggi però tocca a noi domani, già da domani rimetterci in carreggiata, continuare a allenarci come i ragazzi stanno facendo ultimamente.